Buonasera, ben ritrovati in questa edizione come sempre in diretta del nostro telegiornale. L'apriamo subito con un veloce aggiornamento della situazione dei contagi del coronavirus in Italia, stando all'ultimi dati resi disponibili dalla Dipartimento della Protezione Civile. Il totale delle persone che finora hanno contratto il SARS-CoV-2 è 223.096, con un incremento rispetto a ieri di 992 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi risulta 76.440, con una decrescita di 2.017 assistiti rispetto a ieri. E' confermato il calo ancora, dunque continuo, costante, dei pazienti ospedalizzati. Rispetto a ieri i deceduti sono 262 invece, per un totale che raggiunge così quota 31.368 decessi. Sale però anche il numero complessivo dei dimessi e guariti, 115.288, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri. E a proposito di ospedali, saranno rafforzati grazie ai 3.250.000.000 di euro stanziati ieri sul Servizio Sanitario Nazionale attraverso il decreto rilancio, come sappiamo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, decreto con aiuti per 55 miliardi di euro per famiglie e imprese, dunque volto a rilanciare l'economia dello stesso Italia. Come ha fatto presente anche attraverso un video diffuso nella serata via Facebook, il Ministro della Salute Roberto Speranza, questi 3.250.000.000 di euro saranno utilizzati dunque per il Servizio Sanitario Nazionale, saranno tra vari aspetti aumentati i posti disponibili nelle terapie intensive, poi tra le varie misure sarà anche differenziata la modalità di ingresso nei pronti soccorso e anche l'utilizzo delle ambulanze. Sentiamo il suo intervento proprio in merito a questi ultimi aspetti. Dobbiamo rafforzare gli ospedali. Prima di questa crisi l'Italia aveva 5.179 posti letto in terapia intensiva, un numero significativo ma che doveva essere necessariamente rafforzato. Con questo investimento l'Italia fa un salto avanti straordinario, più 115%. Si passa da 5.179 posti in terapia intensiva a 11.091. È una scelta non dettata solo dall'emergenza. Certo, se dovesse arrivare una seconda ondata, avere questi posti letto che oggi le regioni possono costruire, perché noi gli diamo le risorse e mi auguro che questa fase operativa possa essere la più veloce possibile. e con le regioni dovremo lavorare perché si sia rapidi, operativi e pronti per l'autunno. Ma questi posti letto non sono legati solo all'emergenza, sono per sempre. Anche quando avremo un vaccino, ancora sugli ospedali investiamo risorse per ammodernare i nostri pronto soccorso. Sono 192 milioni, una cifra importante. I pronto soccorso nell'esperienza del coronavirus sono stati, ahimè, un luogo di contagio, perché una persona malata è arrivata lì, ha chiesto aiuto in pronto soccorso e in alcune occasioni purtroppo ha contagiato altre persone. Qui mettiamo 192 milioni di euro per differenziare gli ingressi, per avere sale d'aspetto differenziate. E la stessa cosa vale per le ambulanze. Se c'è un rischio Covid deve andare un'ambulanza specifica e noi la finanziamo. Situazione difficile a causa della pandemia, ovviamente, come sappiamo, anche quella vissuta dal comparto del turismo, a sua volta interessata da varie misure contenute nel decreto rilancio. Il governo sta elaborando un piano estivo che permetta ai cittadini di trascorrere in sicurezza le vacanze, ma che dia anche la possibilità ai turisti provenienti da altri stati di arrivare sempre in sicurezza in Italia per godersi le nostre meraviglie e dare ossigeno alla nostra economia. Ha spiegato anche attraverso il suo account Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Noi sentiamo un estratto proprio di un video diffuso nelle scorse ore, poche ore fa, attraverso Facebook. Sentiamo. Tutti i ministri coinvolti sono al lavoro. È chiaro ed evidente che, prima di tutto, adesso con il provvedimento del 18 maggio, cominciamo a sancire come funzionerà il meccanismo di spostamento all'interno del Paese e questo ovviamente non dipende dal ministro degli Esteri, cioè un cittadino che si sposta di regione in regione. Ma noi come ministero, come ministro, sono al lavoro per fare in modo che non ci siano accordi bilaterali tra Paesi che si trasferiscono tutti i turisti quest'estate. Noi dobbiamo permettere a tutti i turisti in Europa di potersi muovere all'interno di tutto il nostro spazio europeo, di tutta l'Unione Europea e decidere dove andare in vacanze. Per fare questo, lunedì, abbiamo una call con diversi ministri degli Esteri e degli altri paesi proprio sul tema del turismo e dei flussi turistici e dei corridoi turistici. Vediamo ora i titoli del nostro telegiornale delle 19. Il Presidente della Regione chiede linee guida applicabili per la fase 2. Con le regole INAIL c'è chi non riaprirà. Domani vertice con i ministri Boccia e Speranza. Da lunedì mobilità concessa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per visita ai congiunti. Il decreto rilancio taglia l'IRAP di giugno. Per la Regione 130 milioni in meno di entrate. Bilancio a rischio per il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti Camillotti e una grande presa in giro. Numeri sempre più sotto controllo. Oggi 5 nuovi contagi da coronavirus in Regione, ancora però una vittima. I positivi al momento sono 823, 32 in meno rispetto a ieri. A Campoformido i ladri sono entrati nell'abitazione di due coniugi anziani. Visti si scoperti hanno picchiato con un bastone il proprietario. Rubati oro e contanti, indagano i carabinieri. Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno. Lo ha annunciato oggi il Presidente del CONI, Giovanni Malagò. La decisione spetterà però al Governo, che sposa la prudenza. Proseguono gli allenamenti individuali dei bianconeri. E dunque lo avete sentito, per Massimiliano Fedriga le regole INAIL rischiano di non far riaprire le attività. Secondo il Governatore sono necessarie delle regole applicabili. Nell'attesa di un ulteriore confronto con i Ministri Boccia e Speranza, il Governatore ha stabilito insieme al collega Zaia che dal 18 saranno consentite le visite ai congiunti per i residenti nei comuni di confine tra Friuli, Venezia e Giulia e Veneto. Mettere in campo regole che siano applicabili, e quanto il Governatore Massimiliano Fedriga chiede in vista delle riaperture di lunedì 18. Parlando di burocrazia, le linee guida INAIL per gran parte sono inapplicabili. Dire che la gente può aprire ma con delle regole che di fatto non permettono di aprire è un problema vero, e quanto ha rimarcato il Presidente della Regione. Aggiungendo di aver inoltrato tramite il Presidente della Conferenza delle Regioni al Governo la richiesta di riapertura anche di piscine e palestre. Domani dovrebbe esserci un incontro con i Ministri agli Affari Regionali Boccia e alla Salute Speranza per ribadire, ha sottolineato Fedriga, la necessità di regole che garantiscano la sicurezza ma che possano essere applicabili. Altrimenti facciamo una bellissima teoria, un ennesimo scritto magnifico burocratico che dopo le aziende non saranno in grado di applicare. Burocrazia che secondo il Governatore ha rallentato anche le procedure scelte per la Cassa Integrazione in deroga, mentre in Friuli Venezia e Giulia le procedure sono state affidate a 40 persone che lavorano full time. Fedriga non nasconde la sua preoccupazione per il futuro del lavoro. Se non ci sono i posti di lavoro, ha osservato, possiamo fare tutta l'assistenza del mondo ma non può durare per sempre. Vuol dire che non garantiamo alle persone il futuro, ovvero stipendio, il mantenimento della famiglia è una prospettiva. Intanto oggi, con una lettera scritta ai prefetti congiuntamente al collega Luca Zaia, Fedriga ha annunciato che dal 18 maggio saranno consentite le visite congiunti per i residenti nelle aree di confine tra le due regioni. I governatori confidano infine nel supporto dei prefetti per divulgare in modo capillare alle forze di polizia questa decisione. Ritornando al decreto rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri, tra le principali misure ricordiamo anche lo stop alla rata IRAP di giugno. Stop che per il bilancio della regione Friuli Venezia Giulia significa 120-130 milioni di euro in meno. Il bilancio è a rischio, afferma l'assessore regionale alle finanze Barbara Zili. Assessore, è arrivato questo decreto legge rilancio, il Consiglio dei Ministri lo ha approvato e tra i provvedimenti c'è anche un taglio dell'IRAP, che è una delle imposte che incassa la regione. Che effetto avrà sull'economia della nostra regione e sulle casse del Friuli Venezia Giulia? Finalmente è arrivato questo decreto, tanto atteso. Lo stiamo studiando, è un tomo di 500 pagine, non è facile da decifrare nel giro di una notte. Sull'IRAP sì, abbiamo messo immediatamente gli occhi sulla norma relativa, porterà un calo delle entrate tributarie proprie della nostra regione per la prima scadenza di giugno, che si attesta su 120-130 milioni di euro. Gli effetti quindi sono pesanti in considerazione del fatto che la nostra regione ha compartecipazioni per 4 miliardi e mezzo e poi vive di entrate proprie per 800-900 milioni di euro. La situazione economica è tale per cui c'è forte preoccupazione per la tenuta del bilancio. Una grande presa in giro è netto il giudizio del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine, Alberto Maria Camilotti, proprio sul taglio dell'IRAP. Allora sentiamo anche le sue parole. Assolutamente carente è la norma che invece è stata molto sbandierata e purtroppo facendo tanta demagogia sul saldo IRAP, perché ricordiamo a tutti che dire che non si paga il saldo IRAP vuol dire in termini di cassa esattamente zero. Nel senso che, come sappiamo tutti, noi paghiamo le imposte con un anno di anticipo perché durante l'anno 2019 sono stati versati gli acconti per le imposte dell'anno 2019 e quindi il saldo che paghiamo oggi è solo la differenza fra quanto versato in acconto e quanto determinato oggi come saldo. Ma siccome normalmente versiamo il 100% delle imposte, oggi probabilmente il saldo vale zero. Poi si dice che non verrà versato l'acconto per il 2020, ma siccome noi non abbiamo ancora il testo di norma e diamo qui il beneficio dell'inventario, pare che questo mancato versamento dell'acconto di giugno non sia a titolo definitivo, ma semplicemente verso meno acconto e quindi nel 2021 avrò un saldo maggiore da pagare. Quindi è una sospensione e non un abbattimento come sono state le parole usate dal Ministro. Spero che queste mie parole siano smentite dal testo di legge, ma questa cosa dell'IRAP è una vera e propria presa in giro a tutti gli italiani. Rispetto al decreto rilancio si è espressa anche la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danielli, ha detto che siamo moderatamente soddisfatti per una serie di proposte di Confindustria che Confindustria aveva avanzato al Governo e che sono state almeno in parte accolte. Mi riferisco soprattutto, afferma la Presidente di Confindustria Udine, alla cancellazione della rata di giugno dell'IRAP per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Su questa misura, finalmente, afferma Anna Mareschi Danielli, registriamo un ascolto da parte del Governo. Quanto alla spinta da 12 miliardi per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione, fa presente ancora, la cifra individuata non è quella attesa. E poi, tra i vari aspetti, afferma Anna Mareschi Danielli, quanto alla Cassa Integrazione, cui meccanismi di erogazione devono essere ancora più semplificati a rischio dell'inefficacia delle misure di aiuto. Per ora, la semplificazione è limitata al fatto che il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all'Inps, superando il doppio canale Inps e Regioni e i relativi rallentamenti. Resta il nodo della durata degli ammortizzatori sociali. Ci riserviamo di approfondire i contenuti del decreto, continua Anna Mareschi Danielli, quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per esprimere un giudizio, ovviamente, più puntuale e articolato. Sul decreto si è espressa anche la CGL del Friuli Venezia Giulia, che promuove la manovra. Sul lavoro risposte importanti, afferma anche attraverso le parole per bocca del segretario regionale William Pezzetta, che dice, però, l'accelerazione delle procedure sulla Cassa Integrazione dovrà riguardare anche il pregresso. Critiche sul taglio dell'IRAP vanno esclusi, dice la CGL del Friuli Venezia Giulia, impatti sulla sanità, dove sono necessarie nuove assunzioni. Riguardo poi alle altre misure, convince la CGL del Friuli Venezia Giulia l'inalzamento al 110% del bonus su alcuni interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Bene, per la CGL del Friuli Venezia Giulia, sempre in merito al rilancio, ora ferma a snellire le erogazioni della Cassa Integrazione. Se dobbiamo giudicare la manovra anticrisi della sua capacità di rispondere all'emergenza, il nostro giudizio è positivo, afferma il segretario generale della CISLE del Friuli Venezia Giulia, Alberto Montico, che guarda con favore dunque alle misure adottate. Pensando soltanto a quelle sulla voce lavoro, fa presente 15 miliardi per la Cassa Integrazione, altri 5 per il sostegno ai reddito di lavoratori autonomi e stagionali e lo sblocco della contrattazione di secondo livello per i lavoratori della sanità con l'investimento di cifre importanti, non sono cose di poco conto. Certo, si legge nella nota della CISLE Friuli Venezia Giulia, ci sono anche delle criticità da sanare velocemente, prima fra tutte il superamento dell'attuale sistema farraginoso che impone tempi troppo lunghi per l'erogazione dunque della Cassa Integrazione. L'anticipo di parte dei fondi attraverso l'Inps si fa presente è una soluzione tampone che non basta. Resta poi l'urgenza di sbloccare i 100 miliardi ancora inutilizzati, continua la CISLE FVG, per le infrastrutture e dare vita a una riforma da troppo tempo attesa, ovvero quella dell'IRPEF, passaggi fondamentali per la ripresa del sistema paese, misure che, per la CISLE del Friuli Venezia Giulia, dovranno essere accompagnate anche da alcuni fondamentali provvedimenti regionali, tesi a garantire tanto la sicurezza sul lavoro, tanto le famiglie. Veniamo ora ai lavori del Consiglio regionale che oggi ha discusso e approvato il disegno di legge numero 88 riguardante misure urgenti in materia di cultura e sport. Un disegno di legge studiato come spiegato per scongiurare in Friuli Venezia Giulia il pericolo di una desertificazione culturale e di un impoverimento sportivo, costruito assieme alle imprese, al CONI regionale e alle associazioni di settore per fornire loro sostegno necessario in questa delicata fase legata all'emergenza epidemiologica. A questo punto sono le parole dell'assessore regionale alla cultura e sport Tiziana Gibelli che ha detto anche si tratta di provvedimenti che non aggiungono costi ma che razionalizzano gli investimenti già fatti attraverso i bandi e le graduatorie di merito che ne sono scaturite, misure che si aggiungono ad altre assunte a livello nazionale. L'Aula ha anche approvato all'unanimità oggi una mozione riguardante misure di aiuto economico al commercio ambulante duramente colpito a sua volta dall'emergenza coronavirus. Le ha chieste alla Giunta per primo il consigliere regionale Furio Onsel di Open FWG con una mozione dunque approvata dall'Aula all'unanimità. E poi la Giunta anche si è impegnata a valutare anche se mantenere come sta avvenendo in questo periodo emergenza epidemiologica la chiusura nei giorni festivi di ipermercati e di grandi discount. Questo attraverso un punto suggerito da Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Ancora in Consiglio regionale c'è stato anche un dibattito rispetto al tema dell'amordernamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste. L'assessore regionale Infrastrutture e Territorio Grazzario-Pizzimenti a conclusione del dibattito ha affermato è un progetto di interesse nazionale che deriva dagli accordi Stato-Regione presi in passato e non va attribuito a questa amministrazione. Un progetto come rimarca Pizzimenti presentato alla Regione da rete ferroviaria italiana visto che il suo impatto non è indifferente spiega l'assessore regionale soprattutto per le varianti di Latisana e sul fiume Isonzo e per il tratto Ronchi-Trieste che attraverso Alcarso per noi afferma Pizzimenti è fondamentale raccogliere i pareri degli enti locali e delle popolazioni interessate per questo spiega andremo nei numerosi territori coinvolti per raccogliere spunti e valutazioni nel più ampio spirito di trasparenza e partecipazione siamo convinti però ha detto ancora l'assessore regionale Pizzimenti che la prima fase di potenziamento tecnologico della linea vada avviata subito utilizzando i 200 milioni di euro a nostra disposizione per questo ha annunciato ancora Pizzimenti a breve saranno pubblicati gli avvisi di gara per la realizzazione dunque di questi interventi venendo alla situazione contagi sul territorio del Friuli Venezia Giulia diminuisce ancora il numero di positivi con 32 unità in meno rispetto a ieri nuovi contagi risultano 5 le persone in terapia intensiva restano 2 mentre si registra un decesso in più il servizio Continua la discesa del numero di positivi in Friuli Venezia Giulia tra ospedalizzati clinicamente guariti e isolamenti domiciliari si tratta di 823 persone 32 in meno rispetto a ieri dall'inizio dell'epidemia di coronavirus le persone risultate positive sono state complessivamente 3.161 di cui 1.332 a Trieste 972 a Udine 659 a Pordenone e 198 a Gorizia i nuovi contagi emersi da ieri in regione sono 5 mentre secondo i dati della protezione civile restano 2 pazienti in terapia intensiva un solo decesso in più si è verificato da ieri facendo salire il numero complessivo di vittime a 317 a non farcela sono state 173 persone a Trieste 73 a Udine 66 a Pordenone e 5 a Gorizia aumentano i totalmente guariti di 36 unità in un giorno arrivando quindi a quota 2021 i clinicamente guariti sono invece 53 e le persone in isolamento domiciliare 619 un aggiornamento completo sull'andamento dei contagi dei tamponi dei controlli effettuati dei servizi erogati oltre che sulla condizione degli assistiti sia nelle case di riposo che nell'assistenza domiciliare e la predisposizione di un piano per la nuova fase dell'evoluzione dell'epidemia è quanto hanno chiesto i sindacati pensionati di CGL Cisle Will all'assessore regionale della salute Riccardi l'incontro con il vice governatore è stato l'occasione anche per ribadire la richiesta di rivedere l'opzione della nave traghetto come struttura per l'isolamento degli ospiti delle case di riposo e dell'RSA triestine contagiati dal virus non solo in considerazione dei costi e delle peculiarità della struttura ma anche per i ritardi accumulati incompatibili con l'urgenza di limitare contagi ed eccessi da parte sua il vice governatore si è impegnato ad assumere a breve primi provvedimenti a favore dei servizi territoriali e ad aprire un tavolo di confronto tutto campo con i sindacati rispetto alla chiusura del Trieste Airport in conseguenza alla pandemia proseguirà per almeno altre due settimane non ci sarà quindi nessuna riapertura il 18 maggio contrariamente a quanto preventivato ma bisognerà attendere ancora dato che i primi voli esclusivamente interni si avranno a giugno da metà giugno presumibilmente si comincerà a volare ha spiegato infatti il direttore generale dell'aeroporto Marco Consalvo nel nostro come negli altri aeroporti solo in Italia per la tipologia e il numero di tratte ha detto Consalvo stiamo al lavoro siamo in contatto con le compagnie aeree per valutare e confermare quello che ci proponevano già oltre che per ampliare la gamma di offerta tutto sarà comunque collegato all'andamento della curva del contagio è vero che l'Enac non avrebbe nulla in contrario sulla riapertura ha affermato Consalvo degli scali ma non essendoci traffico preferiamo attendere e prima di proseguire con la cronaca un veloce aggiornamento anche sul fronte economico per quanto riguarda il gruppo Fincantieri il Consiglio di Amministrazione infatti ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2020 tra i principali risultati si evidenziano in una nota i ricavi pari a 1,3 miliardi di euro e un carico di lavoro complessivo pari a 31,9 miliardi obiettivi primari del gruppo fa presente Fincantieri sono la sicurezza dei dipendenti e la tutela del carico di lavoro Attimi di paura la scorsa notte per un 79enne di Campio Formido che nella propria abitazione si è trovato faccia a faccia con dei malviventi che lo hanno colpito con un bastone e poi rapinato Rapina i danni di un anziano nella notte in via del Molino a Campo Formido era circa l'1,30 quando l'uomo un 79enne ha udito dei rumori sospetti provenire dal piano terra della propria abitazione una villetta singola a quel punto l'anziano si è alzato dal letto per andare a scoprire cosa stesse accadendo quando proprio sulle scale si è imbattuto in tre malviventi che con il volto travisato si erano introdotti in casa i ladri alla vista del proprietario hanno reagito malamente colpendo il 79enne con un bastone alla testa rapinandolo i tre ignoti hanno sottratto velocemente soldi contanti circa 400 euro e alcuni monili in oro dileguandosi successivamente nel nulla da una prima ricostruzione i malviventi si sono introdotti all'interno della villetta forzando una porta collocata al pian terreno per poi iniziare a rovistare all'interno dell'abitazione svegliando così l'uomo a dare l'allarme è stato l'anziano che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Udine dove è stato dimesso con qualche giorno di prognosi illesa invece la moglie che si trovava in casa al momento della rapina le indagini sono in corso indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine vediamo ora le nostre flash news malore fatale per un ciclista stamattina lungo la strada del Vallone in comune d'Oberdo del Lago in malcapitato un 61enne di Monfalcone in sella a una bici da corsa è stato soccorso da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato il numero unico 112 le manovre di rianimazione per quanto tempestive si sono però rivelate inutili sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Monfalcone deve rispondere di furto in debito utilizzo di carta di credito e pagamento il 57enne siciliano residente a Spilimbergo che ha effettuato vari pagamenti con il sistema Conta Plus per un importo totale di 50 euro usando la tessera Bancomat di un'anziana vedova di tricesimo a causa di un malfunzionamento dello sportello dell'istituto bancario dove si era recata per un prelievo l'anziana non era rientrata in possesso del Bancomat l'uomo si è limitato piccoli acquisti avendo cura di usare il sistema di pagamento che non richiede il PIN a fronte di 2.704 controlli delle forze dell'ordine sul territorio regionale per garantire rispetto delle norme di contenimento del contagio le sanzioni ieri sono state 41 un positivo è stato colto in flagrante fuori casa e quindi denunciato ricominciano nel frattempo a crescere i reati come attestano le 90 denunce totalizzate secondo il report della prefettura di Trieste continua anche il monitoraggio degli esercizi commerciali 1488 sono state le attività sottoposte a verifica con 4 titolari sanzionati per mancato rispetto delle normative a Udine è stata avviata l'attività di controllo nelle aziende in molti casi è stato riscontrato che gli imprenditori hanno addirittura implementato le misure di protezione rispetto a quelle previste ma sono state riscontrate anche violazioni e la normativa anti-covid in prefettura Udine sarà inoltre a breve operativo un osservatorio provinciale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro un 27enne di Ovaro è stato soccorso dagli uomini della stazione di Fornia Voltri del soccorso alpino e speleologico è portato in ospedale dopo aver accusato un amalore poco sotto la cima del monte Ombladet sopra l'abitato di Collina a chiamare il numero unico per l'emergenza attorno alle 14 è stato il compagno di escursione che ha riferito che l'amico aveva forti dolori nella zona del costato accusati dopo aver fatto sosta per uno spuntino e che non riusciva dunque più a camminare per gli stessi sul posto è stato inviato l'elisoccorso con l'equipe di medico e tecnico del soccorso alpino dunque che sono stati calati con una verricellata il ragazzo il 26enne è stato dunque poi recuperato è stato portato all'ospedale le sue condizioni non appaiono gravi veniamo ora allo sport il presidente del CONI Malagò si è sbilanciato circa la possibilità di una ripresa al 99% della serie A il 13 giugno eppure i rischi e le incognite restano tante e soprattutto il governo continua a scegliere la strada della prudenza a proposito di rischi restano due nodi principali ossia la responsabilità in capo ai medici per l'attuazione del rigido protocollo sanitario e quella civile penale che pende su società e amministratori tralasciando i rischi per la salute elevatissimi in caso di ripresa affrettata tutte questioni legittime in evase che il patron Bianconero Pozzo ha costruttivamente sollevato in una lettera al ministro dello sport Spadafora auspicando il superamento dell'emergenza per evitare un'improvvida ripartenza dunque affrettata sentiamo a lanciarsi in una previsione ottimistica sulla scia di quanto sancito ma non all'unanimità ieri dalla Lega è il presidente del CONI Malagò che a Radio 2 ha dichiarato al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno un pronostico forse azzardato visti i tempi ma con un realistico seguito del concetto se ricomincia ha detto Malagò impossibile dire quando finirà il campionato ci vorrebbe la palla di vetro i conti infatti vanno primariamente fatti con l'oste coronavirus e poi col governo e il premier Conte in particolare che avrà il boccino in mano e prenderà la decisione definitiva la previsione del presidente del CONI deve fare i conti anche col rigido protocollo sanitario che in caso di nuove positività vedrebbe il banco saltare una volta per tutte insomma la strada per essere in salita e comunque con delle pesanti incognite lungo il percorso incognite e dubbi più che legittimi ravvisati dal patron dell'udinese Gian Paolo Pozzo che in una lettera riservata al ministro dello sport spadafore ai vertici delle istituzioni sportive non solo erano con limpidezze evidenziate come sottolineato poi anche alla RAI il patrono ha posto l'accento sulla primaria questione di sicurezza con la responsabilità dell'attuazione del rigido protocollo che ricadrebbe in capo ai medici sociali a dir poco allarmati per questo senza considerare che il reperimento di tamponi e l'analisi dei test restano problematiche ancora in evase nubi fitti ravvisati in tempi non sospetti anche in merito alle procedure da seguire in caso di nuove positività non tralasciando che in caso di ripresa della Serie A le trasferte ed anche i maxi ritiri blindati non scongiurerebbero rischi visti gli inevitabili contatti con persone esterne alla bolla del gruppo squadra a tutti questi fattori si aggiunge anche la pesantissima responsabilità in capo a società e amministratori ravvisata dal patron bianconero visto che i club avrebbero in questo contesto considerando anche l'inserimento del covid nel numero delle malattie sul lavoro con i giocatori posti da linea tra le categorie a più alto rischio responsabilità civili e penali viene altresì invocato un intervento legislativo mirato che sgravi i club e i dirigenti da questi pesanti possibili risvolti un punto di vista di buonsenso che solleva problematiche oggettive con un approccio costruttivo seguendo la via maestra della prudenza come saggiamente fatto fino ad ora anche dal governo di fronte ad un restart avventato che correrebbe il rischio di essere gravido di conseguenze negative ad esempio anche in materia di infortuni i rischi sarebbero alti si vede il caso del Napoli che dopo pochi giorni di lavoro individuale ha visto fermarsi Manolas e si pensa al pericolo qualora con inizio al 13 giugno la A per terminare il 3 agosto sarebbe in campo per 7 weekend e 5 turni infrasettimanali per finire i 12 turni rimanenti intanto la FGC ha attivato un pool investigativo coordinato dalla procura federale che sorveglierà sul rispetto dei protocolli per le sedute individuali in corso e dal 18 su quelli a gruppi Parliamo anche dell'Associazione Italiana Calciatori che contesta il nuovo protocollo della FGC come leggiamo anche dal sito del Corriere dello Sport tra i vari aspetti a giudizio del Sindacato dei Calciatori le modalità di gestione delle eventuali positività non sembrano idonee a garantire la conclusione del campionato esiste afferma l'Associazione Italiana Calciatori il concreto rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo vanificando così tutti gli sforzi profusi il Sindacato chiede poi chiarezza sulla pianificazione delle fasi successive al ritiro iniziale l'esigenza sentita da tutti noi si fa presente è quella di avere chiarezza sui futuri protocolli concretamente attuabili nelle settimane successive alla prima fase di ritiro soprattutto con riguardo alle modalità di svolgimento delle partite di campionato il comunicato della stessa Associazione Italiana Calciatori annuncia anche un ulteriore confronto sul piano della ripresa e a proposito sempre di calcio e calciatori a tre giorni dalla ripresa degli allenamenti di gruppo il capitano dell'Udinese Kevin Lasagna ha risposto in diretta online alle domande dei tifosi allora ascoltiamolo tornare sul campo dopo 45 giorni è davvero è come la prima volta che il bambino tocca la palla c'è proprio c'è un'emozione molto grande da parte di tutti siamo pochissimi ancora perché potevamo trovarci al campo eravamo in quattro ogni ora e mezza quindi in un campo in quattro persone però davvero c'è l'entusiasmo da parte di tutti quindi abbiamo voglia di rincominciare anche se non sappiamo ancora se si potrà rincominciare il campionato o meno ma la voglia da parte nostra c'è un calciatore quando sta fermo per tanto tempo sta fermo per un mese in estate ma comunque c'è modo di andare al campo con gli amici di giocare fare qualcosa invece una situazione come quella di adesso non è mai successa e ovviamente sarà difficilissimo ma nelle settimane che ci vorranno ad arrivare all'inizio del campionato cercheremo di prepararci al meglio ancora non è uscito la data certa al 100% dell'inizio del campionato e dei metodi e tutto ovviamente noi la settimana prossima rinizieremo allenamenti ma se non sbaglio i protocolli sono che per ancora una settimana non si potranno fare partitine o cose a contatto quindi faremo una settimana di intermezzo dove si potranno fare gestazioni con la palla ma senza avere contatti e poi dopo bisognerà aspettare le settimane successive per capire lo stato cosa deciderà bisognerà vedere come si riprenderà come dicevo prima se si riprenderà sarà un po' surreale perché comunque si giocheranno tantissime partite molto ravvicinate e quindi anche il fatto di come si recupererà la forma fisica tra una partita e l'altra avrà la sua influenza gli obiettivi potranno come dicevo potranno essere importanti anche perché no si potrebbe anche guardare avanti verso l'Europa invece che guardare dietro verso le zone che non ci piacciono quindi ovviamente bisognerà essere bisognerà fare cose molto importanti da parte di tutta la squadra per arrivare a obiettivi molto importanti è arrivato il momento delle prime pagine dunque andiamo a scorrere assieme quelle che sono al momento disponibili iniziamo dal gazzettino che è in apertura a questo titolo ristoranti e spiagge oggi si decide il premier dovrebbe lasciare libere le regioni di agire in deroga rispetto alle linee guida nazionali zaia congelare direttive preparate per il veneto aspetto palazzo chigi vertice con boccia continuiamo abbiamo anche il giornale piangi e fotti lacrime per gli immigrati ma per commercianti e imprese sul lastrico per ora niente soldi solo promesse burocrazia regole assurde tutti contro il governo continuiamo abbiamo anche libero vincono gli immigrati e perdono i medici soldi agli stranieri non ai dottori afferma che beffa il decreto rilancio gli irregolari entrano nel magico mondo dell'assistenzialismo mentre i camici bianchi eroi devono arrangiarsi costruttori partite iva disabili partite iva disabili leggiamo ancora tutti contro il governo la verità Conte ha mentito agli italiani mercoledì ha annunciato in diretta tv il decreto rilancio ma il testo non c'è i tecnici del ministero dell'economia ieri erano ancora al lavoro per trovare le coperture le misure illustrate dunque potrebbero non collimare col racconto del Pinocchio con la pochette intanto le imprese soffocano l'urgenza tradita da litigia e incompetenza leggiamo ancora sulla verità dovremo avere a disposizione anche il foglio si vediamo innanzitutto il titolo in evidenza in rosso tendenza Bellanova mettere da parte si fa presente estremismi di destra e di sinistra trasformare il compromesso in un'arma contro i populisti disinnescare i marcismi nazionalisti oltre le lacrime perché il modello Bellanova può aiutare il governo a non tirare più solo a campare questo appunto uno dei temi del foglio abbiamo a disposizione questa sera anche il manifesto che è tra le principali tematiche appunto a quella della sanità il rilancio parte dal territorio salute ambiente le misure green per la mobilità e la casa si fa inoltre presente e poi troviamo anche un'immagine con queste parole America First il vaccino della multinazionale francese Sanofi sarà riservato al mercato statunitense l'azienda ricatta l'Unione Europea meno vincoli ai più fondi pubblici la rabbia di Macron e c'è un caso analogo in Italia che riguarda lo stabilimento di Pomezia intanto tornano a salire i decessi da Covid vi rimando però come sempre anche l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che inizierà domattina alle 7 ovviamente per un confronto più completo con le prime pagine delle principali testate nazionali e poi ovviamente con le tematiche e le prime pagine della stampa locale siamo in chiusura grazie per averci seguito fin qui vi salutiamo con Accade Oggi 14 maggio del 1986 nasce a Merate Marco Motta che è stato centrocampista centrocampista esterno del Udinese nel periodo compreso dal 2005 al 2007 poi dal 2008 al 2009 cresciuto calcisticamente nell'Atalanta ha debuttato in Serie A con la formazione aerobica nel 2004-2005 disputando 19 gare e segnalandosi come uno dei migliori terzini esterni destro della Serie A è venuto a Udine nell'estate del 2005 assieme ad altri elementi neroazzurri della primavera i difensori Gotti e Rinaldi il centrocampista Morosini l'attaccante Tiboni e un giocatore ormai maturo Fausto Rossini pure lui attaccante nell'Udinese però non ha avuto grande fortuna nella sua prima stagione 2005-2006 la stagione che ha visto l'Udinese giocare anche in Champions League Motta è stato vittima di un infortunio abbastanza serio e ha giocato con il contagocce l'anno dopo ha avuto più fortuna ma di spazio non è che ne abbia avuto granché poi l'Udinese ha deciso di prestarlo al Torino è rientrato a Udine ma anche nella sua seconda avventura bianconera non è che si sia posto in particolare evidenza con la maglia dell'Udinese ha disputato 36 gare è andato a bersaglio una volta soltanto nell'ultima giornata del girone di andata del Torneo 2005-2006 in Udinese 2 Treviso 2 dopo la seconda avventura friulana ecco che l'Udinese lo ha prestato alla Roma Roma che poi lo ha avuto in comproprietà l'anno successivo e nel 2010 l'Udinese dopo averlo riscattato alle buste lo ha prestato dapprima la Juventus poi a titolo di comproprietà e la Juventus impegnandosi a versare complessivamente 5 milioni di euro lo ha riscattato a titolo definitivo nella Juventus non è che Motta abbia avuto grande fortuna ha giocato poco pochissimo poi è stato prestato al Catania al Bologna al Genoa ha continuato la sua carriera all'estero ha giocato anche nel Watford poi nel Charlton quindi ha giocato nella Liga ha giocato persino nel campionato cipriota ed ora fa parte di una formazione pakistana il Berisha Motta vanta anche una presenza nella nazionale azzurra ha avuto la possibilità di indossare la maglia dell'Italia grazie ad un suo estimatore Cesare Prandelli è sceso in campo il 10 agosto 2010 in un amichevole Italia Costa d'Avorio vinta dagli africani per una rete a zero azzurra azzurra